Io dovevo partecipare, ho partecipato l'altra sera a Bruxelles a un vertice eurosocialista, quello che si tiene periodicamente con i commissari europei socialisti e con la presidenza del gruppo. Prima di quella riunione ho sentito il ministro per avere delle informazioni sull'andamento del colloquio. Le chiedo a lui, scusi, io non faccio la spia, faccio un altro lavoro, scusi.